Tutto insieme Guarda, è Heidi brutto Ah, è vero che ce l'ha visto io È Heidi, guarda Sì, ma ce l'ha visto io È Heidi fatta anche tu stessi Ce l'ha visto da te Fa schifo Boh, brutto Andiamo dentro, sì, dilando Sì 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 No, la voglio No, dai, il cane che scopetta Sì 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 Quanto costa? Non voglio Sì 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 I amici. I amici. Questi li hanno messi fuori adesso. Che ragazzini questi... I amici. I amici. I amici. I amici. Kawaii. Perchè? Perchè? 525.000 euro Dove? Ma questo è un donno Non è per me, non è per me Adesso basta il video? Bacchette o forchette col teo e cucchiaio Intercambiabili insieme Benetton, è Benetton No, guarda Incredibile Grazie 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 Grazie